Siamo riusciti a trasformare le vecchie feste patronali dei rioni di Caluso in un evento inserito in un discorso molto più ampio di promozione turistica. Abbiamo preso i vecchi storici, le rocce, i pilastri del rione, li abbiamo uniti con i giovani e li abbiamo messi in sinergia con tutte le realtà del territorio che hanno come obiettivo finale quella la valorizzazione e la promozione dello stesso. Quindi una giornata ricca, il prossimo 12 novembre che cosa si potrà fare con Caluso? Dal mattino a Caluso si potranno degustare i vini di Caluso, parlare con i produttori, degustare i prodotti, partecipare alle funzioni tipiche di una festa rionale per cui le processioni, i rinfreschi, assaggiare quello che si faceva una volta nelle nostre corti, le castagnate, il vin brulè, le frittelle di mele, far giocare i propri bambini, passeggiare per le vie del paese, per i vigneti e per chi è amante dello sport svilupparsi lungo il parco naturale del Lago di Candia i nostri vigneti con una bellissima cicloturistica.